Siete? Ale, vai, ci siamo! Vai, 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 vai! Vai, vai che li perdiamo, sennò! Vai, 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 vai! Sennò! 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 Oh, l'ha andato qui! Va là! L'ha andato qui! Non c'è ancora, non c'è ancora che c'ho andato! Dai, vai! Oh, mia puttana! Dai, va là! Dai, va là o dai dunque? Dai dunque! Dai, allora! Dai, va là! Ah, mi sembra l'automattissimo! Guardate! No, no! Ancora lì, eh! Aspetta! Mi giro un po' Chris! Tirlo, eh! Cista rossa! Cista rossa! Cista rossa! Ancora qui, eh! Sì, ecco tu là! Eh, là non c'è lì, non c'è lì! Non c'è lì! Non c'è lì! Non c'è lì! Oh, non c'è lì! Ah, c'è lì! Sì! Sì, di qua, Christian! Ah, c'è lì! Ah, c'è lì! Ti devo prendere l'Voga! No, no, di qui! Ah, c'è lì! Allora, c'è lì! Ma di lanci di più, quello tuo, eh! Ti è andato fuori! Occhio a non incrociarti con Cristian E quando punto occhio che la canna non vado a toccare il tienti bene Ecco, slamato Slamato? E ci sta dai Vuoi bugare te? Foto troppo Dai che io vi riprendo Allora, adesso faccio Poi lo provo a presi da Cristian in grado bello è una femmina l'avevi visto?